Quale tela ingarbugliata te siamo quando la prima volta inganniamo? Parliamo del settantesimo piano, di finestre con vetri anti sfondamento. Qui c'è la firma di Mac. Ormai è ricco, non ha più bisogno di rubare. E tu credi che lo faccia per necessità? I due che gli ho messo alle costole hanno fallito. Ma quelli erano uomini. Perché mi stai seguendo? Perché ho una proposta da farti. Regola uno, assicurarsi che non sei uno sbirro. Io sono una labbra. Regola due, non fidarsi di una donna nuda. Stai mantenendo tutto sul piano professionale, eh Mac? E cosa sta scaricando il computer? Il bottino, mio caro, è lì dentro. Prima il dovere. E poi il piacere. Esiste al mondo un uomo che non sei riuscita a sedurre? No. Ha boccato all'amore. Sei l'esca più affascinante che abbia mai visto. Quando si cambia partner, cambiano anche le regole. Mancato. Mac fa il lavoro. Era solo una copertura. Stai facendo il doppio gioco. Io copro le spalle di me. Mi stai incastrando, Mac? No, direi che ti sto ricattando. Sono solo i poliziotti, mia cara, che incastrano i ladri. Vieni. Vieni, ti parte! Vieni, ti parte!